Oscar Pistorius è ormai di fronte al proprio destino. Tra poche ore il giudice monocratico del Tribunale di Pretoria, la 66enne Toccosile Massipa, condannerà l'atleta per l'uccisione della sua fidanzata la notte di San Valentino del 2013. Una soluzione viene ritenuta altamente improbabile o piuttosto impossibile. Resta da vedere se sarà omicidio premeditato, omicidio volontario e semplice, oppure omicidio colposo. Nel primo caso, che varrebbe l'ergastolo con almeno 25 anni da scontare effettivamente, avrebbe vinto la tesi dell'accusa, secondo la quale Riva Steenkamp fu uccisa con premeditazione perché intendeva lasciarlo. L'omicidio senza premeditazione prevede invece un minimo di 15 anni di carcere e corrisponde alla tesi secondo la quale l'uomo sparò alla compagna perché è accecato dalla rabbia. Mentre sarebbe omicidio colposo, secondo la tesi della difesa, Pistorius avrebbe sparato credendo che vi fosse un ladro. Qui il giudice ha molti margini di discrezionalità.